Sono state 24 ore davvero brutte quelle successive alla partita con il Monopoli, una sconfitta che compromette il cammino verso la salvezza del Catanzaro. Ma mancano ancora 180 minuti, ci sono due partite e sei punti in palio e la fiammella della speranza è ancora accesa. Noi di uscatanzaro.net abbiamo scelto di alimentarla nell'unico modo che conosciamo, cioè quella di sostenere la squadra giallorossa. Per farlo abbiamo scelto di organizzare dei pullman che porteranno i tifosi giallorossi ad Ischia, dove si giocherà in trasferta la prossima importantissima partita del Catanzaro. Ora Salvatore illustrerà nel dettaglio questa iniziativa per cercare di coinvolgere quanti più tifosi possibile. Allora, innanzitutto dopo la scopola di ieri, sono passate ormai più di 24 ore, diciamo che adesso stiamo lentamente cercando di riprenderci. Per riprenderci, come diceva Francesco, l'unico modo è sostenere il Catanzaro. Ripetiamo, sostenere il Catanzaro alla maglia. Oggi sul nostro portale, dove abbiamo il forum di discussione, è nato fuori quell'orgoglio e quell'affetto che ha sempre distinto i tifosi del Catanzaro. Tante persone ci hanno contattato e vogliono contribuire affinché la nostra testata, oscatanzaro.net, riesca a portare più tifosi possibili a Ischia, dove si giocherà una partita decisiva per le nostre sorti future. Vincere a Ischia potrebbe significare, sperando, è inutile fare tabelle, calcoli, pensiamo ormai che tutti lo sanno, qual è la situazione del Catanzaro, significa dare ancora una speranza di rimanere nella categoria dei professionisti. Allora, adesso passiamo all'iniziativa che è quella che vogliamo annunciare attraverso questa nostra inconsueta striscia. tramite alcuni tifosi, tanti tifosi, chi con un contributo maggiore, chi minora, chi nelle loro possibilità, tantissimi sono di fuori di Catanzaro, hanno fatto sì, ci daranno la possibilità, noi di Punto.net, di organizzare degli autobus completamente gratuiti, chiaramente nei prossimi giorni vi daremo delle indicazioni più precise sulle modalità, orario di partenza. Di certo il viaggio per Ischia è gratis, quindi noi vi invitiamo di contattarci sia attraverso la nostra pagina Facebook, sia attraverso la nostra mail che è in redazione, www.catanzaro.net, poi lo scriveremo anche in un calcio, in un page, per prenotarvi, speriamo di essere tanti, noi non ci resta che fare altro e dare seguito a quegli slogan che questa volta devono essere reali, il finché è morto non ci separe, il Catanzaro non si discute, si ama, adesso lo dobbiamo far sentire tutti quanti, a prescindere dai calciatori, a prescindere dalla società, ricordiamolo sempre che c'è solo il Catanzaro, quindi seguiteci e cerchiamo di andare tutti a Ischia per questa partita che è veramente la partita della vita. Ecco, io mi accodo a quello che è stato l'appello di Salvatore, aggiungo che anche uno dei pullman che organizzeremo sarà destinato agli Ultras, che in questa stagione sono stati comunque sempre accanto alla squadra e giustamente anche in questa trasferta lo saranno assieme, speriamo, ai tanti tifosi che aderiranno a questa iniziativa. Chiaramente i dettagli poi saranno resi noti nei prossimi giorni in home page, noi abbiamo scelto intanto però di condividere con voi questa iniziativa per mobilitare fin da oggi la tifosi di Aggiolo Rossa. Ci vediamo a Ischia!